Per il PD Conte rimane il punto di equilibrio di una coalizione senza il quale rischia di non esserci più la coalizione. Senta, ma l'eventuale riapertura di Italia Viva è comunque esclusa? Mi pare che nelle ultime ore siano migliorati i toni. Il giudizio che Italia Viva dà sul governo, del quale peraltro ha fatto parte fino a qualche giorno fa, è un giudizio diametralmente opposto a quello che danno le altre forze della maggioranza.